Alessandro Dalcanto, in tema di mercato sembra che abbia congelato, dal suo punto di vista sembra che non dovrebbe partire nessuno e che semmai sarà la rosa dove essere svoltita. La rosa aveva bisogno di essere svoltita, questo lo sappiamo da tempo, per quello che era successo nella campagna trasferimenti di luglio, agosto e settembre. Poi quello che succederà credo che dipenderà molto anche da come andranno queste sette partite di dicembre e dalla posizione di classifica che avrà l'Arezzo dopo la partita del 30 contro la Lucchese. Lì allora capiremo anche quali linee seguirà la società sul mercato. Intanto se ce ne fosse stato bisogno, Piacenza fa salire le quotazioni di questa squadra. Piacenza è stata una grande vittoria secondo me, per il valore dell'avversario, perché per l'Arezzo era una partita che arrivava dopo due pareggi che avevano lasciato un po' di amaro in bocca con il veleno nella coda, con quei due gol subiti in zona Cesarini. Insomma c'erano dei punti interrogativi che la squadra ha superato alla grande con una bella prestazione, con un risultato conquistato anche con un po' di cinismo, che però per una squadra d'alta classifica non guasta mai. Il prossimo avversario sembra, come dire, stentare a fare punti fuori casa. Ecco, probabilmente ha ragione il mister quando dice che si aspetta un avversario agguerrito. Sì, ha dato una definizione che è molto calzante secondo me. La propate è una squadra di categoria e come tutte le squadre di categoria sarà un avversario rognoso. Qui c'è un campionato dove c'è, lo sappiamo, ormai grandissimo equilibrio. Tu puoi veramente vincere con le prime e fare fatica con le ultime, anche per l'atteggiamento tattico che adottano. Quindi non sarà una partita semplice, però ecco, l'Arezzo ci arriva nel miglior modo possibile, con una condizione psicologica buona, con una condizione fisica eccellente, con il morale alto, con l'aiuto di un pubblico che credo domenica sarà numeroso, per cui c'è fiducia e poi vedremo come andrà. Sulla probabile formazione ha lasciato un punto interrogativo. Pensi che cambierà qualcosa? Secondo me sì, Zini ha fatto bene a Piacenza in quello spezzone, è stato protagonista nell'azione del gol dell'1-0 e il modo con cui è andato a riconquistarsi quella palla, che era in possesso di Nicco, quindi di un avversario, è anche sintomatica di un atteggiamento giusto, positivo, con cui è entrato in campo e credo che domenica potremmo vederlo dall'inizio al posto di Persano, poi non mi aspetto altri cambi in formazione. È comunque un Arezzo che è cresciuto? È cresciuto moltissimo, è andato al di là delle aspettative, l'abbiamo detto tutte le settimane, e adesso c'è curiosità per vedere come si comporterà la squadra in queste sette partite di dicembre, perché potrebbero veramente disegnare uno scenario che soltanto qualche settimana fa era assolutamente impossibile da prevedere. Grazie a te. Grazie a te. Grazie a te. Grazie a te.